La prima vittoria del Brindisi Il Brindisi insiste al 34esimo, trova il vantaggio, lancio in avanti con Bacè che riesce ad inserirsi e anticipa l'intervento del numero uno di casa, appoggia la sfera al centro che Cordici deve solo depositare in rete. La reazione della Casertana è tutta in un tentativo di testa deviato da Cervellera in calcio d'angolo nella ripresa, prova subito a farsi vedere in avanti la Casertana al quinto minuto, azione dalla sinistra dentro l'area di rigore Brindisina da buona posizione, Fellica calcia sul fondo. All'undicesimo però la Casertana resta in dieci uomini per l'espulsione di Maresca per doppia munizione, Brindisi prova subito a approfittarsi due minuti dopo. Ripartenza di Cordici, sfera per Bubalo, il raso terra sul secondo palo, si stampa sul montante. Il Brindisi insiste ed è ancora Bubalo protagonista al 27esimo, cross lungo sul secondo palo, sotto misura il numero 18 croato, manda alto sulla traversa. La rete però è rinviata al 31esimo, il tiro dal limite di Falivene sulla ribattuta arriva Bubalo che deposita in rete il 2 a 0 e concede a Brindisi tre punti pesanti per Morale e classifica.